Si rinnova l'appuntamento molto piacevole ed emozionante all'Università di Salerno con la cerimonia di programmazione dei dottorati di ricerca. Dei dottori di ricerca è un momento importante questo per l'Università e non solo. Sì, è anche un riconoscimento a tutta la nostra comunità e tutti i coordinatori di dottorati del tuo dipartimento per l'opera che hanno fatto in questi anni. Non è stato semplice perché abbiamo puntato sul dottorato come momento essenziale nel nostro progetto di crescita, nella nostra filiera formativa e lo abbiamo fatto seguendo delle strade ben precise. La prima è puntare sulla qualità e sul merito. Abbiamo ereditato molti dottorati, abbiamo dovuto procedere a un processo di accorpamento anche in relazione a quelli che sono i provvedimenti normativi e lo abbiamo fatto cercando di selezionare i colleghi che davano nel collegio dei docenti i migliori secondo quelli che erano i dati sulla produttività della ricerca. Però abbiamo anche chiesto ai coordinatori di dottorato di fare in modo che tutti venissero coinvolti, anche coloro i quali ne facevano parte, non ne potevano più far parte, diciamo in qualche modo essere coinvolti nelle tante attività che durante un dottorato devono tenersi. Allo stesso tempo abbiamo questa scelta di scegliere i migliori ovviamente a cascata sia poi nella scelta di migliori coloro i quali partecipano ai corsi di dottorato. Poi abbiamo investito delle risorse perché abbiamo ritenuto che la formazione post laurea fosse decisiva per noi come università, per i nostri dottori di ricerca, per il territorio stesso. In questo senso noi possiamo dire che nel 2013-14 l'ultimo dottorato che non è stato da me varato, abbiamo avuto 79 borse. Oggi ne abbiamo 151, quasi raddoppiate. Questo significa un'amplificazione della capacità di ricerca del nostro Ateneo, un'amplificazione delle qualità dei nostri giovani sul nostro territorio e quindi una formazione di grande qualità che può essere, come dicono i dati ISTAT, che testimoniano anche la qualità dell'inserimento lavorativo, sicuramente possono servire all'università della ricerca, possono servire anche fuori dal mondo della ricerca e penso che su questo bisogna abbattersi anche a livello nazionale perché oggi i dottori di ricerca sono un patrimonio di questo Paese. E molte di queste risorse le abbiamo ottenute su base competitiva. Infatti abbiamo partecipato quest'anno a due bandi, uno al POR regionale e Salerno ha avuto 26 borse aggiuntive e le ha avute sulla base del merito, tenendo presente che l'università più grande delle nostre dimensioni, come la seconda università di Napoli, ha avuto 14 borse. O sul piano nazionale, perché c'è stata un'altra misura di finanziamento dei dottorati di ricerca su base nazionale, anche lì abbiamo avuto, guarda caso, 26 borse, però sedi importantissime, come Bari ne hanno avuto 12, Palermo 16, Foggia addirittura 0. Insomma, voglio dire, abbiamo veramente avuto un numero di borse molto al di sopra di quelle che è il nostro dato, diciamo, derivante da nostre dimensioni. A testimonianza ancora una volta che l'attenzione che abbiamo messo nel recuperare risorse su base competitiva è stata la scelta vincente e quando, diciamo, c'è da prendere risorse aggiuntive su base competitiva l'università di Salerno primeggia sempre. E' valso per i fondi ordinari, ministeriali, vale anche per i fondi aggiuntivi per quanto riguarda i dottorati. Grazie.